Ué amicos! Senti, e se tu mettessi dietro un seggiolino e ti porti da me? Fiore! No, 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 mi piace, dì! Perché tu, per esempio, lo porti sull'altamuccia, lo lasci, ti fai un giro, ti fai, e lui ti raccoglie tutti i simoni che stanno. E lo... Ti poterai, capito? Ti sto riprendendo, ti sto immortalando quello che stai dicendo! E questo è ancora più... Ho comprato proprio l'affare cinese per tenere, cioè proprio della tomtom. Ma lo so, come la vedi? Come la vedi questa idea, diciamo? È un'ottima idea, è un'ottima idea! Lo parti là, lo parti, diciamo. Poi lo lascia, ti faccio vedere, vedi qua... E poi tu sai... E ti fai la provvista per... Almeno per il meso di marzo! Sì, vabbè! Grazie a tutti.